Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph15 e ben ritrovati nel canale. Oggi, come potete vedere, ho costruito la rupe del Re Leone. Oggi, sapete che faremo, giocheremo con i personaggi del Re Leone, che ora vi mostro. Che sono questi qui. Andiamolo ad aprire e a togliere tutti i personaggi. Ok bambini, ho tolti tutti i personaggi, come potete vedere. Li ho tolti tutti, sono tutti sparsi ora però. Vabbè, comunque ora li vado a prendere. Prima vi devo dire una cosa. Oggi non è che faremo davvero tutto il film del Re Leone, figuriamoci. Ricordiamoci, non possiamo fare tutto il film. Sennò quando deve essere lungo il video, non faremo tutto il film. Faremo soltanto l'ultima parte del film. Prima di iniziare vi devo dire una cosa. Ditemi chi ama il Re Leone, io lo amo davvero tanto. Vabbè. Comunque, se vi piace anche a voi. Aspetta bambini. Se vi piace anche a voi il Re Leone, non potete perdervi questo video che è davvero del Re Leone. Ora sei proprio nei guai, Simba. Ma questa volta è diverso. Non c'è il tuo paparino a salvarti qui. Aspettate bambini, ho saltato un pazzo un attimo. Buona visione. Madre, dimmi che non è vero. Non hai ucciso tu. Non fasa. È vero. Hai visto? E ora calerai giù. Ora sei proprio nei guai, Simba. Ma questa volta non c'è il tuo paparino a salvarti. E lo sanno tutti perché... Simba! Oh, sto per cadere nel fuoco. È ora che ti rivelo il mio ultimo segreto. Prima che... Prima che verrai... Aspettate bambini. È ora che ti rivelo il mio ultimo segreto. Prima che morirai, ti devo dire una cosa. Dopo che ti dirò questa cosa, ti butterò giù. Te la dico all'orecchio. Non hai ucciso tu, bufasa. L'ho ucciso io. Simba! Simba! Dillo a tutti la verità. La verità! La verità! La verità è quella rinativa. Va bene. Sono stato io. Io ho visto Mufasa. Oh, no! Sono fichi. Il sasgio babbino. Aiuto! Aiuto! Slimba! Aiuto! aiutiamola a prendere quella bestiaccia questo è fuoco vabbè non c'è tempo di perdere tempo mentre nel frattempo Zazzo era intrappolato dentro la grotta fammi uscire fammi uscire attenzione ti sto facendo uscire ecco ti ho fatto uscire oh no dietro di noi stanno le iene lì stanno le iene guarda piccolo spuntino mangiamoli mangiamoli alla prima occasione si mangiamoli ehi chi è quel maiale te l'avevo detto l'avevo avvisato maiale io mi dovete chiamare signor maiale aaaaaa li aspettiamo o的話 non si chi va a me va bene arrivare pumbas vediamo c'è un'altra scala per andare ancora più su oh no è finito questa è la cima della montagna non posso più non ho più chance non posso più scappare non posso più scappare non ho più via di chance assassino simba simba ti prego per l'ultima chance ti scongiuro tu non meriti di vivere simba è ieri loro mi hanno tradito loro mi hanno detto di fare questo piano loro me l'hanno detto non sono stato io inventato loro hanno deciso di fare questo piano allora non siamo più i suoi amici non siamo stati noi a organizzare il piano se non è stato lui allora se vince simba e va nell'inferno lo mangeremo se va nel fuoco lo andremo a mangiare è merito sul piano non siamo stati noi dai andiamo andiamo nel fuoco così se vince simba e lo butta nel fuoco noi lo andremo a mangiare sono stati davvero le iene e perché dovrei crederti finora non mi hai raccontato altro che bugie simba simba e avvi pietà ti scongiuro farò tutto quello che richiederai se mi risparmi se almeno mi risparmi farò tutto quello che mi chiederai come osi tu come osi te lo metti farò tutto quello che mi chiederai tutto battene scarpe battene e non tornare mai più oh sì ma sarà fatto come desiderate vostra maestà ah 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 finalmente è ora che è andato giù andiamolo a mangiare allora bastogli un onceffone fortissimo Sì ho vinto io E ora non mi basta che mandarlo nel fuoco Sto soldando Oh amici miei Amici Non ricordi quella volta dove hai detto Dove hai detto che noi Che noi abbiamo organizzato il piano Quando invece tu Era solo per ingannarlo E costruiamo insieme Ti faccio male Troppe piane Finalmente siamo riusciti a sconfiggere Scala E non è sempre la Grazie a tutti. E' fine, Luna.